Un pomeriggio a bordo di un battello in navigazione sul Po per conoscere autori ed editori piemontesi e quanto propone la Biblioteca della Regione nell'ambito della quarta edizione del Maggio dei Libri l'iniziativa per promuovere la lettura sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Centro per il Libro e la Lettura. Fino al 7 maggio, corsa giornaliera ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alle 15.30 con partenza e arrivo da Corso Cairoli.